E' stata una giornata emozionante, emozionante e gratificante, emozionante come tifoso intervistare Marco Van Basten, sentirlo, vederlo, quasi toccarlo, è stato bello, come gratificante tutti i riconoscimenti che mi avete mandato, gli attestati di simpatia, di congratulazioni e questo mi fa piacere, questo è il lavoro del giornalista, del giornalista e mi vanto di essere il giornalista che cerca di portare notizie oppure ipotesi, ovviamente cercando di conciliare il campo, l'attualità con le notizie eventuali future. Ecco, riguardo le notizie future mi sono un po' addombrato, un po' irritato e il titolo era chiaro, basta Paris Saint Germain, il Milan non è un supermercato, adesso un sito francese dice che il Paris Saint Saint Germain vorrebbe attaccare la possibilità di prendere Pierre Caloulou, perché gli interessa ovviamente, visto la qualità del giocatore, per la sua difesa. Ecco, meno male che abbiamo già rinnovato il contratto e devono presentarsi con tanti soldi, ma io mi auguro che per questi giocatori come Caloulou la porta sia chiusa, cioè il Milan non deve guardare al denaro che possa ricevere per Caloulou, perché altrimenti continuiamo a mettere una base e togliere una base, mettere una base e togliere una base. E già tanto il Milan sta facendo miracoli perché pur perdendo Donnarumma, Cialanoglu, lo stesso che sì, è competitivo, ma non è che si può andare avanti fino all'infinito a essere competitivi perdendo le basi e le colonne. Quindi Paris Saint Germain, poi Paris Saint Germain, vai in un altro supermercato, ce ne sono tanti. Ecco, mi auguro che gli si dica, Paris Saint Germain, il supermercato è chiuso per te, perché il nostro supermercato ha solo merce pregiatissima, carissima e vai da un'altra parte. Io spero proprio che il Milan, come al resto ha fatto, perché il Milan ha perso giocatori a parametro zero, ma non ha mai trovato giocatori che abbia perso, non ha mai trovato giocatori poi che lo abbiano lasciato perché sono arrivati degli altri a prenderli. No, assolutamente no. Il Milan, i suoi giocatori li ha protetti e li a difesi. Quelli che non ritenevano consono alle loro richieste, alle loro soddisfazioni, ai loro traguardi, ai loro obiettivi, hanno deciso di andare perché il Milan, secondo loro, non era la squadra adatta per un loro futuro. Poi, se sono adatte le altre, non lo so. Intanto siamo riusciti ad assorbire bene queste perdite importanti e quindi complimenti ai dirigenti. Però non è che i dirigenti possano far miracoli e trovare sempre delle soluzioni. Dunque spero proprio che anche l'attacco eventuale a Calulù trovi un Milan ben chiuso che dica non ci interessano delle offerte. Uno potrebbe dire no, ma le offerte sono sempre interessanti da valutare. Sì, però con le nostre basi no, perché se no continuiamo, ripeto, fare, disfare, sembriamo la tela di Penelope. Non è mai successo, bravi dirigenti hanno perso qualche giocatore a parametro zero, a costo zero va bene per loro scelta, ma lo sono sempre riusciti a supplire a queste perdite. Quindi questo è importante sottolinearlo dopo questo, si dice da un sito francese, obiettivo, si dice obiettivo per la prossima estate, Pierre Calulù. Ecco, Pierre Calulù speriamo che rimanga a lungo nel Milan perché è grande giocatore. Uno mi potrebbe dire la solita frase, ma se arrivano con 50. Vabbè, se arrivano con 50 poi bisogna prenderne un altro, inserirlo e poi i 50 poi non andiamo in Champions League, li perdiamo. Quindi teniamoci le base e si abitino a una cosa gli altri club, che il Milan non è un negozio né di Bulgari né di Chopar. Non si può andare lì, negozio caro, prendi, acquisti, metti una segnone e te ne vai. Ecco, vadano da una altra parte, il Milan non è questo e chiariamolo ancora una volta. Non ci sono novità per quello che riguarda gennaio, ogni tanto esce la voce di Ziechi in prestito, chiederemo ancora, so stufo di chiedere quando non si sa che cosa dire, si va ancora su Ziechi. Tutte le altre cose su che sì sono fantasie degne del film Fantasy, quel vecchio film di Walt Disney degli anni 50, ecco, proprio degno. Però continuiamo poi le altre le altre suggestioni. A gennaio non prendiamo nessuno, a oggi è così. Se succede qualcosa vi tengo al corrente. A giugno non ci possono essere dei nomi, delle suggestioni, ma il Milan non si è ancora posto il problema di giugno. Quindi tutti i nomi vanno bene, nessun nome va bene. Se poi ci piace inventare dei nomi proprio inventati perché Milan non sta sondando nulla in questo momento. Vuole capire quali saranno poi i sondaggi, i contatti per i giocatori. Lo sapremo a gennaio o a febbraio. Per adesso no. Così è se vi pare. Grande commedia. Così è se vi pare. Ma veniamo al question and answers di oggi. e cosa ne pensi di Gakpo? Giocatore molto interessante, giocatore del PSV Eindhoven. Però sono giocatori già scappati. Per prendere un giocatore già scappato vai a prendere quello bravo, 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 bravo o altrimenti vai sul giovane. Gakpo è un eccellente giocatore ma non vedo il Milan che va a svenarsi per Gakpo. Però mi chiedete cosa ne penso e bravo. Leao rinnova, la solita domanda. Ne parlavo oggi anche col collega Luca Serafini. Leao rinnova. Io mi auguro che appena si sia insediato Giorgio Furlani, appena possa, convochi le parti, lo stesso giocatore, si guardino tutti negli occhi e decidano cosa fare. Rinnova non lo so, ma non lo sa neanche Leao e non lo sa neanche il Milan. Eri sull'aereo di ritorno da Parigi mercoledì? Sì, me lo chiede Tommy. Mentre su Leao rinnova Diddi 1985 e Giuseppe Morina 1394 mi ha chiesto di Gakpo. Mansen 1483. Ma perché Maldini non parla direttamente con Leao per capire cosa voglia fare? Magari l'ha già fatto e non ce l'ha detto. Il Milan non è che ci dice tutto. Magari Maldini ha già sondato e capito. Maldini, se però si accorge che ci siano difficoltà, l'ha già fatto con Donnarumma. Prende e va da un'altra parte. Mi auguro di no. Però Leao è veramente un tome. Vedo l'ora che sia chiuso ben a Ser Leao, perché poi non so neanche di che cosa si parli. Finalmente si parla d'altro. Cosa ne pensi dei maxi recuperi di tempo ai mondiali? Da gennaio anche in Ammarco Rossini, 80? A me non piacciono, ce lo dicono prima. Pensare a una partita senza sapere prima. Cinque che posso, magari il Milan vince uno a zero. Sì, se perde uno a zero, avrà altri 14 minuti. C'è da dire una cosa. Io mi ricordo delle partite, non faccio nomi. L'anno scorso, dopo cinque minuti, il portiere perdeva già tempo. Ecco, lì allora, è l'argione Pioli, viene voglia veramente di fare un recupero di 20 minuti, che così. E tanto se devono prendere il gol lo prendono nel finale. Ciao Carli, ci manderesti un video di saluti al club che faremmo vedere alla cena di Natale. Milan Club, Padova Sud. Sono qua, quindi amici del Milan Club, Padova Sud, vecchi cuori rossoneri, buon Natale e soprattutto buon 2023, rosso nero. Ci vediamo in curva, ovviamente. N, Fraccaro, Leao e nuovi acquisti. Ho già risposto prima. È possibile pensare di cedere a Leao ed acquistare a Ronaldo? 1.402, Inge, Inge. Spero proprio di no. Spenso proprio di no. Chi vorrebbe Ronaldo al posto di Leao? Io no. Come costi, come freschezza, come giocatore più adatto allo spogliatoio del Milan. Giuliano Longo, grazie Carlo per l'intervista al nostro Marco. Pensa anche tu che anche oggi sarebbe il migliore? Senza dubbi. È il migliore, era il migliore, sarebbe stato il migliore. Mucci, 1.737. Quara diventa più forte di Leao? Vediamo, vediamo. Una bella lotta. Il Milan ha vinto anche quando c'era Maradona e aveva i suoi grandi giocatori. Vincerà anche se giocassi nel Napoli Quara. Signori, Milan ha battuto tutti. Batterà anche il Napoli di Quara, se gioca meglio del Napoli di Quara. Io non capisco. Mi guardo i miei, non mi interessa Quara. Bravo, bravissimo, straordinario, fenomeno. Mi tengo i miei, che sono bravi, straordinari e fenomeni. Simo, Simo, Pido. Comprendemo qualcuno a gennaio? A me non risulta, poi vi tengo al corrente. Nanni Cal. Franks potrebbe dare una scossa a ciocampio? Come fu con Boateng? Fisicità e intensità. Io andrei in causa con Franks. Spero proprio. Ho visto migliori in campo. Addirittura qualcuno lo proponeva come uomo del mese per quel minuti finale con la Fiorentina. A me è piaciuto, ma non è che abbia fatto delle cose straordinarie. Anche perché ha giocato così poco. Però vediamo. Me lo auguro. Lo voglio conoscere meglio. Samu Rosato. Che si torna al Milan? No. N come. come North Pole o Napoli. O come Otranto. Potrebbe fare il ruolo alla Donadoni. Cosa ne pensi? De che Telerni chieme Lambrix? Io lo vorrei vedere. Io lo vorrei vedere, l'ho già detto. Lo vorrei vedere in quel ruolo. Mi piacerebbe molto vederlo in quel ruolo. Cosa ne pensi di tornare ad avere un 10-6-2-5 anni Lambrix? Soluzione che a me non dispiace. Decide Pioli. L'anno scorso è stato molto fruttifo. L'ha provata anche quante volte con Krunic. È una soluzione che in certe partite dà molto più equilibrio. Cosa hai fatto? Che mi hai... Darfe, calma, non capisco. Il tuo stile di telecronica infarcito di citazione a 360 ti ha creato problemi? Grazie per tutto quello che mi hai fatto conoscere e amare. Derfelkadrn88. Derfelkadrn88. Ti ringrazio? No, nessun problema. Piacevano, poi mi divertiva farle così. E poi è bello spaziare, pitturare. È troppo divertente. E ti ringrazio se ti ho fatto amare e conoscere Milan. Durante Brasile e Serbia hanno inquadrato Cafu, qual è il tuo ricordo nel nostro Pegasus? I Am Priest 96. Un grande ricordo, grande giocatore, grande uomo, sempre. Un giocatore dinamico, un grande professionista, un giocatore sorridente, un giocatore bravo. Ho un ricordo splendido di Pegasus, cavallo alato. Credo che sia un orgoglio, mi dice sempre a Imprez 96, vedere i giocatori del Milan straordinari nel mondiale. Sono d'accordo con te. A me fanno. Piace molto, molto, molto. Il ruolo del nostro trequarsino dovrebbe essere un tutto campo un po' come Griezmann, Tam Luca. Potrebbe essere così. Vedremo poi se De Chetelare si adatterà. Lo devi sostituire con un top se ne portiamo a lottare, se no continuiamo a lottare per il quarto posto, Carlo. Leao lo devi sostituire con un top, Stefanino 12. Spero di non sostituirlo con nessuno e di tenere Leao. Un tuo ricordo di quella serata magica contro il Gotteborg 30 anni fa? Beh, è stata una serata straordinaria, una serata bellissima. Una serata da grande Milan con quattro gol di Marco Van Basten. È stato straordinario. Mirko Mauri. Penso anch'io che le manchevoli saranno molto importanti per tutti. certamente saranno importanti per vedere alcuni giocatori dal primo minuto, finalmente. Mattia El Rojo. Quanto si è involuto De Chetelare? Era pareto tutto sommato bene. Poi o a poco a poco ha perso un po' quell'ispirazione dell'inizio. Ma noi abbiamo fiducia. Un terzino sinistro italiano e giovane al posto di Balloturè a gennaio. Joe ST 72. A gennaio? Non credo. E se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelleganti e attivate la campagna.